ciao ragazze bentornate sul canale questo qui è il 22esimo video 22 siamo a 22 forse sì forse sì vabbè dai scherzavo comunque ecco qui questi dovrebbero essere gli ultimi bracciali da vedere che già abbiamo visto anche in altri video quindi non mi dilungo troppo sono dei rigidi degli snake il resto li vediamo un attimo insieme vediamo il primo è tutto in rose come potete vedere e questo l'ho fatto ultimamente l'abbiamo creato anche insieme vi ricordate ho chiesto consiglio eccetera la parte diciamo in il risalto se vogliamo scusate lo prendo così altrimenti ecco se vogliamo la parte risalto è quella centrale vedete e questo è un bracciale un po particolare perché è molto luminoso ma anche molto sensuale come bracciale nel senso che ha questo color blu viola che si alterna con il rosso vedete e gli dà un aspetto un po un po particolare un po misterioso e quindi mi piace tantissimo come vediamo è sempre simmetrico sempre speculare nella parte centrale abbiamo il cuore che l'altro l'utilizzo sulla collana in rose infatti questo bracciale può essere tranquillamente messo insieme a quella collana che vi ho fatto già vedere nel video quello precedente i video precedenti quelli sulle collane e quella collana losanghe rose ci ho messo il cuore questo qui e lo riprendo anche su questo bracciale tutto il bracciale in rose non c'è niente di argento come potete vedere c'è solo il colore il colore in questo caso è un viola scuro o anche un blu notte poi c'è un colore avorio e rosa quindi è molto unidirezionale diciamo come come colorazione vediamo una meglio nel dettaglio io però a questo punto allargo un pochino il video bene allora il bracciale questo il bracciale un bracciale molto 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 bello come potete vedere qui non ci sono le filettature ma è semplice semplice così e le filettature non ci sono neanche per tutto il bracciale questo è proprio a testimoniare per l'ennesima volta e lo aggiungo che le filettature quelle che vengono inserite qui ai lati sono state create dal signor pandora chiamiamolo così però insomma dalla casa semplicemente per dividere i momenti della nostra del nostro bracciale quindi di quello che vogliamo interpretare nel nostro bracciale non servono per sostenere il bracciale non servono per non so non far smollare come tante volte sento e leggo purtroppo il bracciale servono soltanto a dividere in tre parti uguali i vari le varie sfaccettature che noi vogliamo dare sul bracciale in effetti il bracciale si chiama moment per questo motivo per momenti il primo potrebbe essere diciamo rispettivo per la famiglia alcuni lo usano per i viaggi altri per il lavoro altro per l'amicizia altri per gli animali sono stati creati solo ed esclusivamente a questo fine tant'è che per togliere ogni dubbio pandora ha fatto i sessi snake o comunque simili ma senza filettature perché non è che se tu riempi un bracciale il bracciale si smolla non si smolla niente semplicemente l'usura del dello stesso può far cedere cedere le maglie che adesso vedete qui abbastanza strette ma se noi utilizziamo per tanto tempo un bracciale in argento qualsiasi bracciale in argento essendo l'argento un materiale morbido ovviamente viene un pochino si si allenta un pochino la maglia ma non è che si smolla o si rompe o si divide o si spezza o si fa quel che vuoi non si fa niente o quantomeno le filettature quindi le clip non impediscono ciò ecco a volte è capitato una ragazza una mia amica che gli si è impigliato sulla mani sulla come si chiama la maniglia della porta insomma era un pochino lento era mezzo vuoto devo dire la verità si era impigliato sulla maniglia tirando non si è resa conto e si è praticamente aperto un po' con tutte le maglie si è aperte un po' tutte le maglie ma quello è stato un incidente dovuto a uno strattonamento quindi se c'erano le clip sarebbe stata la stessa cosa cioè cambiava niente anzi forse anche peggio perché diciamo creavano un fermo dove non serviva ecco comunque bracciale poi sistemato certo è rimasto un po così però l'hanno un pochino sistemato e via insomma che vi volevo dire quindi questo è il bracciale con questa chiusura che ambo i lati è uguale identica sempre di pandora ovviamente apriamo eccolo vi voglio far vedere un attimino l'interno eccolo qui ha sempre la linguetta in acciaio come vi ho detto anche nell'altro video il chiodino è sempre lui e che cosa abbiamo qui abbiamo una catenina a sbalzo io adesso ho messo fatto una stupidaggine ho messo l'olio e ce l'ho anche sulle dita vabbè la catenina a cuori a sbalzo si chiama quella con lo zircone cioè la zirconia cubica centrale vedete e i cuoricini infatti in questo modo di qua e di qua no soltanto di qua perché questo è clip mentre quella in argento si avvita invece questa è clip fatta apposta per questo bracciale guardate vedete la clip è con l'interno in silicone quindi si può abbinare a qualsiasi tipo di bracciale anche quello rigido e noi lo inseriamo qui ecco fatto e poi andiamo avanti che cosa vediamo allora innanzitutto vediamo un pendente che è quello con la violetta una delle ultime collezioni e tutta la zirconia da questo parte non mi soffermo molto perché già li abbiamo visti il dietro è questo ecco qua ovviamente leggete alemet che non è argento è lega metallica guarda come è fatto bene galvanizzato in oro rosa 18 carati qui abbiamo una murrina molto molto carina che secondo me con il con il rose ci sta benissimo perché queste qui che sembrano quasi un color champagne effettivamente invece sul rose vanno molto molto bene lo riprendono molto bene e questa sta anche da quest'altra parte poi abbiamo un charm sempre come il pendente di prima quindi con la violetta ma questa volta la zirconia ce l'ha tutta tutta intorno di qua e di là e nel centro nella parte centrale molto luminoso bellissimo veramente fatto molto molto bene qui abbiamo invece un cuoricino un po vecchiotto se vogliamo in smalto aspettate ecco qua vediamo se si legge è un po rovinato perché un po usurato ovviamente in smalto tutto martellato al di sotto vedete hanno fatto questa serie di martellamenti che formano quasi un ricamo un pizzo se vogliamo vedete sembra un pizzo quindi guardate il dettaglio è particolare non è il semplice martellamento ma proprio un ricamo e sopra c'è un fiocchetto color avorio con lo smalto color avorio da una parte sola qui abbiamo invece altre due clip queste sono abbastanza recenti sempre in mette con questo cristallo sopra azzurro a forma di cuore con le tre griff che lo tengono molto bello anch'esso all'interno al silicone quindi come lo si sposta rimane vedete e ci ha voluto inserire in mezzo questo cuore qui in rose che abbiamo già visto quello delle collane e ci sta benissimo sta proprio carino troppo bello mi piace un sacco qui abbiamo un cuore simile a quello di prima ecco qua vedete la funzionatura simile ma mentre il prima era sotto con vedete il colore uguale alla fine dello smalto no però questo qui è liscio sotto ma lo smalto se vedete bene non è neutro a tutti questi glitter e tutti intorno molto molto grazioso bellino e poi abbiamo lo stesso di prima anche questo per finire abbiamo un pendente che abbiamo visto tante volte lo yin yang ecco sempre in rose in teoria sono due pendenti ma è lo stesso perché vedete come funziona funziona così si può anche dividere se magari avete il vostro partner e volete dargli uno voi tenete l'altro e via dicendo se no un'amica madre figlio come volete voi tanto sapete il significato di yin e yang scusate mamma mia e questo è molto bello perché ha lo smalto color avorio vedete luminoso molto luminoso e lo smalto color blu viola blu sì comunque insomma questo questa colorazione qui la zirconia che ciò qua la zirconia qui è blu e qui è bianca e vanno praticamente insieme molto molto bene dietro sono così vedete e hanno anche la scritta lo yin e il mio yang molto molto carino mi piace tanto e poi finisce di nuovo così e questo è uno ragazze mie questo è uno andiamo subito con l'altro questo non l'avevamo visto no allora questo credo non l'avevamo visto non mi ricordo ve lo faccio vedere prima così allora è un bracciale sì con la sfera in rosa credo si rosa e diciamo che i suoi charme suoi pendenti sono questi come potete vedere adesso ve li avvicino un attimino vi ho fatto vedere l'immagine quella proprio più lontana possibile per vederli tutti insieme ecco qui questo è appunto la sua chiusura è un rigido un 19 vediamo un po alle r io questa cosa non so che dire non la conoscevo dovrò chiedere dovrò chiedere perché non so che cosa vuol dire mi mi lascia sorpresa anche a me me lo faccio dire però ale vabbè identifica il pandora ok essendo il rose dovrebbe essere ovviamente di metallico no r resta per revisionato non so rivisto non so questo non so che dire comunque c'è scritto così adesso io lo lascio in questo modo così lo possiamo a giorgia aggiorniamo poi nei video successivi o comunque insomma più avanti perché prima dovrò andare in store e chiedere cos'è vedete servono anche questi video per questo motivo perché comunque io magari capita che prendendo l'istor non ho necessità di guardarli all'interno eccetera eccetera ma con questi video mostrandoli a voi si possono vedere delle caratteristiche che magari non avevo notato vedete eh sì e me lo porto subito in store bella bella sta cosa allora comunque non ha scritte vedete vedete non ha scritte dietro qui dicevo è una 19 e parte sempre con lo stesso discorso comunque della simmetria parte con delle clip queste sono con silicone all'interno sono molto molto grandi come potete vedere le faccio un po scorrere così vediamo insieme ecco qua ale metto sta per metallo l'ho detto già qui ci sono tutte tutte queste zirconie grandi bellissime romboidali e a goccia di nuovo romboidali che creano questa immagine molto molto carina veramente molto luminosa peccato che sono molto grandi e quindi bisogna stare un pochino attenti per lo spazio vedete qui abbiamo poi un pendente anzi due in questo caso simile per il discorso dei dipendenti doppi è che uno lo può dare a una persona e l'altro tenerlo tu o sennò tenerli tutte e due tu in questo caso ritengo ambe due perché c'è il discorso della figlia femmina vedete con il cuoricino che compone molto grazioso in con lo smaltino nero e l'altro invece è scritto qua dietro scusate madre e figlia femmina molto carina sta cosa uno è in rose e uno è in argento semplice e grazioso qui che cosa abbiamo allora qui abbiamo delle murrine le ho identiche in argento queste sono in rose con tutto questo ricamo fatto a cuore continuo come sappiamo insomma abbiamo visto tante volte anche se met molto molto grazioso e l'interno a tutte queste pagliuzze sono trasparenti ma con queste pagliuzze sul verde sul viola sul giallo tutte molto molto luminose mi piace tantissimo qui abbiamo il solito charm gioiello in questo caso tutto in rosa anche lui con i cuori classici che si vedono su tutta la superficie e queste zirconie giganti che si vedono su tutti i due lati vedete quanto sporge sporge tanto e tutto intorno anche vediamo dove va dove ha la funzionatura eccola qui vediamo un po qui abbiamo l'ennesima sorpresa io devo capire però è aspettate qui addirittura c'è scritto di nuovo alle r e davanti c'è un altro codice che mi sembra un i2 mamma mia dovrò andare a fondo a questa cosa perché mi sta incuriosendo parecchio e allargo un po aspettate ecco allora abbiamo detto che c'è questa dicitura e vedete che qui un pochino ha sbattuto qui e di qua su sulla murrina vabbè io l'indosso tanto questo quindi ci sta molto molto carino però avanti andiamo avanti chissà dopo vediamo quell'altro andiamo avanti vediamo qui un'altra murrina questa è addirittura sfaccettata e all'interno tutte queste palluzzette mamma mia quante ne sono argentate con su sfondo bianco il vetro un vetro trasparente ma è luminosissima e in argento molto 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 bella e secondo me ci sta anche bene qui poi abbiamo un coniglietto con in rosso sempre lui con gli occhietti in zirconia cubica e le orecchie in smalto rosa sotto è fatto in questa maniera e ovviamente essendo in rosso dietro c'è la sua dicitura questa dicitura aspettate che cerco di farla arrivare ecco qua addirittura qua dice p 11 alle met vedete quindi arriveremo anche a lui bene bene molto grazioso comunque qui abbiamo il pendente ecco il pendente la coccinella quella rosa che non sapevo mai dove mettere ho trovato la sua posizione e a questi non credo che siano spinelli penso che siano zirconia nere sì e quelle sopra sono trasparenti anche in mezzo qui c'è la trasparente guardate che bella smalti rosa molto molto carina la ghiera è fatta così vediamo dove alla dicitura eccola qua sotto vediamo un po' alle met semplice semplice se questo è semplice vedete l'argento come si consuma così si vede anche molto molto meglio vedete poi si lucida non c'è problema dietro la coccinella c'è scritto pandora semplice abbiamo un altro topolino questa volta è in argento simpaticissimo io l'ho messo speculare a questo qui al coniglietto perché ha le stesse orecchiette rosa ovviamente sono simpatici entrambi con queste occhiette questo argento ovviamente e la caratteristica è la codina che si muove è fatta come se fosse un cornetto un pendentino vedete guardate che carina molto graziosa e particolare allora siamo di nuovo con la murrina che vira un pochino sul rosa vedete ma è bellissima questa è stupenda vediamo un po' la punzonatura di questo qui rispetto all'altra vedete la stessa identica e qui che cosa abbiamo invece abbiamo un altro pendente speculare a questo qua però è diverso e il pendente questo ve lo faccio vedere alla ghiera in argento con tutte queste con tutti questi punti luce in alternanza bianchi e violetti vedete e poi la caratteristica che ultimamente pandora fa è che la ghiera a queste palline di qua e di là invece che sopra ornamentali ovviamente questo non è non sono due pendenti e uno solo con un tondino molto largo per contenere appunto due pendenti uno in rose e l'altro in argento ecco qui con la scrittina cos'è scusate con la scrittina in my heart nel mio cuore il cuore è fatto con questa bellissima puntina luminosa viola forma appunto di cuore e qui c'è questo che c'è scritto scusa vabbè questa è la sua dicitura vedete anche qui c'è scritto t1 ale met quello è nati sì e quell'altro forse la loro t2 vediamo vediamo adesso ci facciamo raccontare bene bene quindi rimanete sintonizzati iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella così da non perdere i prossimi video e magari anche delle anticipazioni per queste diciture che magari io avevo anche un foglio dove c'erano tutte scritte ma chissà che fine ha fatto comunque ne arriveremo a capo questo è molto usurato si vede l'ho portato tantissimo questo bracciale e vabbè basta farlo rilucidare non c'è grandi problemi anche un ruso va bene questo lo richiudiamo adesso e andiamo avanti con il prossimo ecco il prossimo l'abbiamo visto già in tutte le salse quindi non mi soffermo molto ma ve lo voglio far vedere è lui è lui è lui oddio ecco qua eccolo qui così aspettate che lo stringo un po eccolo vabbè l'abbiamo già visto abbiamo visto un sacco di video con lui montaggio smontaggio rimontaggio e ne ha passate ne ha passate comunque è una maglia snake sempre una 19 senza filettature come il discorso di prima vedete infatti non ce l'ha neanche qui è pieno come potete vedere abbastanza pieno non totalmente insomma mancano almeno due charm circa però mi sta bene così perché si muove bene anzi questo quasi quasi me lo metto anche stasera molto luminoso carinissimo e qui abbiamo la chiusura rotonda è tutto in argento ovviamente con la linguetta in acciaio la come si chiama catenina di sicurezza è quella con silicone perché senza filettature va benissimo con silicone che si apre si chiude quindi si può indossare su qualsiasi bracciale e io le preferisco un pochino rispetto alle altre poi abbiamo la o di pandora in rose e tutto il resto in argento ecco qua vediamo dove c'è la dicitura chissà se c'è dentro sicuro qua c'è soltanto scritto pandora pandora vabbè andiamo avanti che cosa abbiamo qui un'altra clip sempre rosa come quelle che vi ho fatto vedere quando quando ho fatto vedere non mi ricordo comunque forse su un altro bracciale comunque eccola qui una clip con dentro il silicone poi qui che cosa abbiamo abbiamo in argento un cuoricino quelli del dei mesi dell'anno questo ha una un cabochon perché questi qua hanno il cabochon non hanno sfaccettate le pietre ovviamente sempre un vetro una zirconia di laboratorio cabochon con tutto il cuore tutto bugnato intorno e anche la ghiera anche la ghiera questo è un azzurro chiaro poi abbiamo un verde tiffany è molto bella sono quattro murrine uguali non vorrei che fossero aspettate che allargo un attimo al volo aspettate ecco qua vediamo un po ecco qui sì è in argento vedete com'è fatto le bollicine sono fatte apposta per dare comunque luminosità vedete e ha tutte pagliuzze dorate al suo interno guardate molto simile a troll bits come genere il vetro è trasparente ovviamente poi che cosa abbiamo un altro charm gioiello questo è fatto con tutte foglie vedete questi sono rametti con tutte foglie disegnate stilizzate e forate qui abbiamo quattro griff di cui una che è un punto luce favoloso su queste altri punti luce luminosi color ambra molto 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 belli anche di qua lo stesso discorso e intorno intorno ci sono tutte zirconie molto bello anche questo charm gioiello qui abbiamo le sferette queste venivano veramente pochissimo smaltate c'erano di tre tipologie dorata rose e argento io non mi ricordo quante ne ho e che tipologie o comunque questa dovrebbe essere quella in rose e l'anima è sempre in argento come potete vedere è soltanto lo smalto pieno 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 di pagliuzze comunque eccola qui è luminosissima questa non veniva molto mi ricordo veniva veramente poco ma è di una luminosità in pazzesca incredibile e qui che cosa abbiamo abbiamo il primo pendente speculare poi all'altro autunnale con appunto delle foglie sia in basso piena di zirconi di zirconi e gialle e bianche e sopra questa foglia tutta aperta diciamo con la serigrafia aperta in rose quindi la parte sotto è in argento ha anche una dicitura come fly with me viene a volare con me molto molto bella è fatta veramente veramente bene mi piace tanto e poi la la ghiera la parte superiore è tutta lavorata con queste zirconi e affogate se vogliamo aspettate che l'avvicino un altro pochino ecco affogate in queste foglie stilizzate all'interno sono delle foglie che contengono queste zirconi e coloratissime molto bello questo è uno dei pendenti più belli secondo me che pandora ha potuto creare con il rose e ne sta creando è questa è un'altra murrina come prima quindi non mi soffermo più di tanto andiamo avanti con il centrale che è sempre questo qui l'abbiamo visto più di una volta con la coccinella vedete che pende questo è il p11 alemet stesso discorso di prima sul discorso della p davanti o della t in quel caso e poi abbiamo le foglie qualche foglia con la zirconia e qualcun'altra no molto molto carino di nuovo un murrina di nuovo la foglia di prima di nuovo la sfera luminosa di nuovo il charm gioiello color ambra spettacolare di nuovo la murrina e ila abbiamo un cuore del mese però questa volta con una con un cabochon color rosa tenue e finiamo con un'altra clip in rosso ecco questo è il bracciale finito così che prevede sia l'argento sia il il color rose e c'è questo azzurro aspettate che accorcio che è bellissimo e secondo me ci dona proprio tanto ultimo ma non per importanza vediamo un po che cosa riusciamo a tirar fuori ultimo bracciale in rose evidentemente qua tenevo tutti i rose è questo qua allora l'ho messo già male questo è un bracciale in corda in tessuto guardate eccolo e a questa parte finale con le nappine con le zirconie sempre in rosa parliamo di un bracciale in rose color nero ma in rose ha queste parti come potete vedere questi cilindretti con l'aggancio per aprire e chiudere vediamo se riesco a farlo senza creare casino mi sa se ci riesco non mi ricordo se si stacca da questa parte o da quell'altra forse da questa vabbè proviamo l'altra che magari un pochino più estrema no no vedete che lo apre vedete lo apre lo chiude ma non esce ah perché ho le mani con l'olio mi scivola io volevo fare ecco oh e questo è il chiodino che va poi a incastrarsi qui una volta vedete c'è anche la molla ecco qua e va incastrarsi qui qui ci si possono inserire i nostri charm pendenti quello che vogliamo e poi si va a richiudere quindi non si apre sempre si apre giusto per inserire i charmi pendenti si va a richiudere in questo modo avete sentito il click perché si è richiuso invece per inserirlo siccome questo è un sale scende per inserirlo si fa così si mette il polso e la mano dentro e poi si chiude in questa maniera molto carino andiamo avanti che cosa abbiamo qui abbiamo queste bellissime clip che in realtà dovrebbero avere il silicone all'interno ma vi devo dire la verità non ne sono convinta perché scivolano parecchio quindi a meno che oddio non si apre tanto perché sono nuove a meno che no infatti vedete ah vedete com'è scritto qua pure r addirittura r all'emette e questa è una cosa che io devo capire se si comunque non al silicone volendo ci si può mettere ma in questo caso non ce l'ha è fatta molto carina questa questa l'ho presa in saldo veramente pagata pochissimo e ne ho prese due infatti e ha appunto la caratteristica di avere questi fiocchi con tutte le zirconie sopra molto molto graziose qui che cosa abbiamo abbiamo una margherita sempre con il discorso appunto della ghiera tutta buccellata sopra la margherita è in smalto con zirconia cubica al centro lo smalto è favoloso perché parte da un fucsia fino ad arrivare a un rosa chiaro ed è bellissimo l'avevano fatto anche in azzurro questo ricordo e qui c'è appunto la sua dicitura con il cuoricino qui dietro fatta molto carina arriviamo alla murrina che ha la stessa caratteristica più o meno di quella di prima hanno fatto queste murrine con l'hanno fatta anche quella natalizia con le stelle e la luna mi sembra che però non ho non credo di avere mi sembra che non l'ho presa che hanno diciamo questo hanno l'anima in murrina e il contorno è in metallo in questo caso o in argento lì c'erano i cuori qua ci sono le foglie vedete e qui c'è la dicitura appunto pandora e ale matte perché è in metallo molto molto bella e vedete che particolare la murrina passa da un fucsia come un po' per la margherita un rosa chiaro quasi un bianco qui addirittura c'è un un elemento che evidentemente nel farla si è mischiato e quindi è rimasta così tutte diverse sono abbiamo un nostro bellissimo fenicottero ragazzi allora questo qui è fatto in questa maniera ecco qua semplice semplice con questo cabochon luminoso sempre lo stesso colore molto grazioso e bello anche dietro perché è fatto così è creato molto molto bene qui poi abbiamo due clip come quelle che abbiamo visto nell'altro bracciale identiche all'interno abbiamo due di questi che li ho voluti tantissimo che sono i fiori di ciliegio smaltati ne avevo uno solo sono riuscito a trovare l'altro credo che l'abbia trovato forse in saldo probabilmente comunque guardate gli smalti come sono inseriti e se è l'albero di ciliegio con i fiori sopra bellissimo questi sono due più belli che che pandora ha fatto secondo me di distanziatori e poi abbiamo nel centrale questo cuore con una zirconia in rosa in rosa è tutto intorno con zirconie invece bianche trasparenti eccolo qui dietro questo è lo stesso identico pendente di quello bianco che abbiamo visto in questo tante volte che ci hanno fatto anche l'anello gli orecchini eccetera eccetera lo stesso identico ma in rose qui che cosa abbiamo la rosa di bella la bestia eccola qui con la sua ghiera tutta tempestata come se piovesse guardate quante ce ne ha messe una marea e la rosa è presente così molto molto bella con il suo gambo fatto in questa maniera devo dire questa prende confidenza con i maglioni per tornare al discorso della battuta sulla confidenza questa la prende tanto evidentemente gli sa proprio simpatico perché c'è questo gambetto quasi a invogliare no tipo tramordito venite da me ecco tipo così li chiama proprio li chiama comunque qui abbiamo l'altra murrina vedete è differente da quella che abbiamo visto prima quantomeno è un pochino più chiara il fucsi è molto più scuro guardate guardate è molto più accentuato ma sono tutte diverse abbiamo la bellissima libellula che non può mancare che io le adoro e questa è fatta proprio bene è in metallo sempre con la galvanica al vano plastica in oro rosa ecco qui la dicitura e il brand molto molto carina fatta molto bene bella e sta bene sul bracciale sta benissimo e per ultimo abbiamo l'altra clip tale quale a questa il bracciale si presenta così quindi non è stra pienissimo aspettate che l'ho messo male ve lo voglio far vedere in tutta la sua interezza anche se l'abbiamo visto tante di quelle volte ragazzi però magari chi guarda il mio canale per la prima volta magari vuole capire un attimo di più e vederlo un po di più per darsi anche una regolata su quello che si può acquistare che non si può acquistare qualcosa ancora si trova in sconto forse o su qualche gioielleria che ha mantenuto il brand e non ha dato magari alla casa ogni tanto pandora rimette qualcosa in saldo quindi eccolo qua e io credo di aver terminato ragazze io penso che questo è l'ultimo video rullo di tamburi l'ultimo video sulla su tutta la mia collezione fino ad oggi quindi parliamo ormai siamo ad agosto ce n'è voluto per fare questo video questi video siamo ad agosto e quindi diciamo che per il momento la mia collezione pandora è questa come avete visto in altri video di volta in volta cambia perché arrivano cose nuove magari variano più che per le cose magari variano i bracciali alcuni li regalo capitato alcuni li perdo troppo qui dentro che cosa abbiamo è perché questa non l'abbiamo ancora controllato allora io vi dico cosa abbiamo qua dentro e poi capite voi il perché ritengo lì qui abbiamo una collana che di segretaria una collana bellissima con tutti questi segmenti che vanno dal semplice a quelli con tutte le zirconie e poi hanno la zirconia sopra vedete ecco sono segmenti simili al bracciale ai bracciali che abbiamo visto vi ricordate molto molto graziosa il dietro è regolabile come potete vedere è anch'esso un puntino luce qui eccolo qua eccolo qua varie regolazioni e qui alla targhettina identificativa del brand perché sta lì perché lo devo portare in gioielleria visto che mi si è tolto uno un vetro una zirconia mi si è proprio tolto è saltato via la devo far rimettere perché poi sta proprio al centro quindi si vede e quindi me la tengo da parte insomma visto che l'ho trovato sono segretaria chi la sente chi la sente poi che cosa abbiamo io sbircio ma non vi ho fatto vedere quelle altre cose vabbè adesso vi faccio vedere qui che cosa abbiamo questa nuova nuova la tartarughina ci devo fare delle cosine questa non c'entra niente questa non c'entra niente quindi in gioielleria per queste cose ma io prima avevo detto in altro video tempi non sospetti che vi volevo far vedere le cose che avevo da dover dare però a capire dove sono ecco trovati questi qui vi ricordate nell'altro video ve l'ho detto ma non ve l'ho più fatti vedere quelli faccio vedere adesso ovviamente stanno qui perché non sono state indossate ovviamente non da me almeno ecco qua allora abbiamo due baci a bracci uno è una misura chi vuole essere lieto sia è uno è una misura qua non si si legge 50 eccola qua questa è una misura 50 non si trovano sapete che già ce li ho non si trovano sono bellissimi sono una serie di eternelle fatta così proprio tutto baci a bracci e l'altra ne avevo prese diverse evidentemente perché la misura non ancora non avevo ben chiaro quale dover tenere questa è una 52 credo sì questa è una 52 stesso discorso quindi stesso anello cambia soltanto misura 50 o 52 e queste le devo dare quindi ripeto chi vuole essere lieto sia perché per ritrovarli poi apriti cielo comunque stanno qui come avete visto non vengono indossati poi che cosa abbiamo a un'altra cosa che devo dare nuovissima presa tempo fa ma siccome già ce l'ho avevo sbagliato l'acquisto e quindi è rimasta lì nella bustina è la fatina bitono con il cuore in oro ecco qui la sua funzionatura molto molto carina ne abbiamo già parlato in altri video fatta così dietro è così molto 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 bella e anche questa nuova 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 poi che cosa abbiamo vabbè abbiamo questo perché anche lui era doppione però questo è usato e non da me mai usato perché l'avevo già preso usato e c'è uno che è un pochino forse più usurato comunque questo ma io non me lo ricordo di aver velo fatto vedere ma chi è stato commesso l'altro bracciale comunque questo è il gattino è il primo gattino di pandora guardate anche la punzonatura ne risente aspettate ecco ecco il primo gattino di pandora vedete col suo musetto molto carino molto grazioso ecco la sua codina qua dietro veramente delizioso le zampettine fatte bene mi piace tantissimo e questo pure lo volevo dare perché è doppione non per altro ma alla fine queste cose qui quindi non vi avevo ancora fatto vedere credo che abbiamo terminato tutto e siamo arrivati addirittura a 40 minuti quindi più del solito ragazze però essendo l'ultimo video avevo piacere di condividere le ultime cose random con voi ora io che cosa vi volevo dire mettete un like se vi è piaciuto comunque il video la collezione quello che volete voi e più in là farò la stessa cosa con tutta la collezione di troll beats ho intenzione di fare anche dei video sulla braille come questo per esempio questo è un bracciale braille non è un bracciale scusate è una collana questa è quella sottile io ho anche la collana più grande che però non indosso al braccio invece questa la riesco a indossare al braccio scusate non riesco a trovare la dicitura ma comunque c'è e poi c'ho diverse cosine di uno dei 50 e di cyclone che praticamente erano la stessa azienda inizialmente poi si sono divise e quindi cyclone si è staccata e ha fatto un brand punto suo ma è molto molto simile poi lo vedremo invece su uno dei 50 c'è una bellissima storia che mi piacerebbe raccontarla fare un video apposito anche più di uno perché è una storia tutta al femminile 50 sono le le i pezzi che venivano fatti su per ogni tipologia quindi massimo 50 pezzi a tipologia questo è stato l'inizio appunto di questa azienda questa azienda tutta al femminile solo donne ci lavorano anche d'oggi solo donne bellissima azienda spagnola e credo sia di barcellona di madrid non ricordo bene comunque penso barcellona e cyclone idem è la stessa cosa è scritto ciclon poi li vedremo insieme e in effetti fanno cose molto molto simili io odio ambe due brand e mi piace tantissimo è una tipologia di lavorazione differente da quelle a cui siamo abituate con pandora troll bits raspini oppure in come l'acciaio tipo braille eccetera ma è favolosa ha tutta una caratteristica un'anima sua che mi piacerebbe un giorno mostrarvi quindi diciamo che di video ce ne sono tanti ce ne sono tanti da farvi vedere bisogna trovare il tempo e un po di voce che come sapete ogni tanto mi abbandona ma io no io non vi abbandono quindi sono qui rimanete qui con me e ci vediamo al prossimo video a questo punto forse fra qualche giorno forse non ho detto un bacio grande e a presto ciao ragazzi